Glielo sto dicendo, basta essere chiari perché si va in Parlamento, si chiede una risoluzione e si fa un'azione, punto. Nel momento però in cui il Governo pensa ad un'azione solo per mettersi a seguito di un carro che sta già tracciando una strada, il rischio reale è veramente quello di iniziare un percorso che non approda l'interesse nostro, italiano, di difesa, dei nostri interessi, dei nostri cittadini, ma semplicemente quello di cercare di sedersi a un tavolo poi per contare qualcosa di più. Queste cose purtroppo nella storia ci hanno già insegnato che non producono risultati nulla. Allora vogliamo fare un discorso serio, un discorso serio non può prescindere da un contesto condiviso, quindi a livello europeo ci deve essere una scelta di politica europea che evidentemente non può essere fatta, perché la politica esteroopea non esiste, esiste una politica nazionale francese. Però colpisce l'europeismo della Lega su questo fronte. No, non è un europeismo, faccio solo un'osservazione che alla fine i clandestini ce li abbiamo qua noi. E ancora una volta, quando poi si va a parlare della ridistribuzione, non avviene. Però mettetevi d'accordo, due mesi fa, dopo Parigi, avete proposto l'occupazione della Libia. Ti sto dicendo una cosa, tu sei al governo, fai una scelta per cosa sia coerente. Ti sto dicendo una cosa, se tu lo vuoi fare, se tu vuoi fare un'azione sulla Libia per difendere i tuoi interessi, ti lo dichiari e lo fai. Se però lo stai cercando di fare, perché altri hanno preso l'iniziativa, perché la Francia o la Germania o la Gran Bretagna o gli Stati Uniti hanno delle politiche interne da soddisfare... Non voglio interrompere...